Corpi estranei negli occhi Trattamento Chiudere le palpebre per qualche minuto, poi aprirle e mettere la testa con il viso verso il basso. Se il corpo estraneo si è disposto sul bordo della palpebra, asportarlo delicatamente con l'embo di una garza o di un fazzoletto, quindi lavare l'occhio con acqua. Se il corpo estraneo è un agente irritante, acido, detersivo, ecc., lavare gli occhi per almeno 5 minuti con acqua tiepida. Se il corpo estraneo è metallico, bendare entrambi gli occhi e portare il paziente d'urgenza al pronto soccorso. Importante! Non sfregare gli occhi. Questa manovra risulta sempre nociva.